Truffava i connazionali promettendo posti di lavoro all'estero, la cittadina di origini russa è arrestata dalla squadra mobile di Salerno a Celle di Bulgaria. La donna, destinataria di un mandato di arresto europeo, era stata già condannata in Russia, poiché in quanto responsabile di un'agenzia di servizi raggirava le persone che si erano a lei rivolte per ottenere un posto di lavoro all'estero, estorcendo loro soldi senza offrire nulla in cambio. La donna è stata condotta presso la casa circondariale di Forni e ora è a disposizione del Ministero della Giustizia in attesa di estradizione, dovendo espiare la pena di tre anni di reclusione inflitta dall'autorità giudiziaria del paese di origine.